Salve, piacere, mi dica tutto, lei è qui per... Ah, sì sì, mi ricordo, ci siamo sentiti al telefono, vero? Stamattina? Sì sì, ricordo, i sintomi sono migliorati anche solo leggermente oppure no? No, ok, ho capito. Mi ricordi che cosa sente, quali sono i suoi sintomi che gli scrivo al computer? Ok. Va bene, detto così potrei avere una mezza idea, però non saltiamo a conclusioni affrettate. Da quanti giorni però sente questi sintomi? Ok, invece attualmente sta prendendo qualche farmaco per curare qualsiasi altro dolore. Ok, allora io inizio un po' a vedere. Ho qui dei guanti che adesso metterò. Ok, li ho messi. Ok, li ho messi. Ma mi accerterò che questo è vero. Quindi per il momento le consiglio di mettersi comodo. Perché questa visita durerà un quarto d'ora, venti minuti diciamo. Ok, va bene. Allora oggi le andrò a fare quella che in inglese si chiama ENT. E visiterò tutto quanto. Ma prima le devo un attimino controllare la temperatura. Ok, quindi mi guardi e stia fermo un attimo. Ok, 36 e 4. Siamo perfettamente nella norma. Poi è vero che in realtà per alcuni la temperatura è soggettiva. Quindi c'è chi magari, per esempio per quanto riguarda la febbre, quando ha 37 sta malissimo. E chi invece ha 39 riesce a stare ancora bene. Però lei si sente caldo o no? Quindi conferma che è una temperatura abbastanza normale per lei. Ok. Prima di tutto oggi andrò a tastare la sua gola anche qua dietro per vedere se ci sono delle ingrossature dei linfonodi. Sì, va bene. Perciò mi avvicino un attimo. Molto delicatamente, ovvio. Si giri leggermente di lato. Dall'altro lato. Non mi sembra di averne visti. Va bene. Bene. Adesso invece tasterò un po' il naso. Perché anche qua lo vedo che è leggermente arrossato. Vengo. Ok. Questo forse le darà un po' più fastidio. Se ha fastidio me lo dica. Parto dalla base. Qua. Ok. Qua. Qua le dà fastidio. Provo a vedere anche un po' più in alto. Tipo qua. Le dà comunque fastidio. Ok. Ok, quindi mi sembra di aver individuato il punto in cui le dà più fastidio. le prende anche un po' il contorno degli occhi in questa zona o questa zona. Ok. Come immaginavo. Allora guardi secondo me è sinusite. Quindi la cureremo ok? Sì sì. Non si preoccupi. Non è nulla di grave. Adesso farò una cosa. Ho qui del cotone. Ne prenderò due pezzi. Ho qui del cotone. Ho qui del cotone. Vogliamo. Horbare. Ho qui. Ho qui del cotone. Segui qui del cotone. Si. Ho qui del cotone. e cerco un po' di arrotolarli, uno e due, sono un po' grandi ma vabbè, prenderò questa soluzione nasale e le farò due spruzzi nel naso, in una narice e poi nell'altra e le metterò questo cotone perché potrebbe iniziare a coggiolare di muco oppure anche a volte un po' di sangue perché questa soluzione va a sciogliere tutto quello che c'ha nel naso. Ok, allora parto dalla narice destra, uno, due, e metto questo cotone dall'altro lato, uno, due, e metto questo. Sì, non si preoccupi di avere quei due cosi nel naso. Ok. Adesso però voglio vedere ancora, oltre alle orecchie, gli occhi, gli, gli, gli occhi, perché secondo me anche quelli sono molto 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 collegati. Perciò chiuda quest'occhio, lo chiuda, guardi me, anzi guardi il mio dito di qua, di qua, su, giù. Lo rifacciamo nell'altro occhio. Guardi il mio dito qua, su, giù. Questo per vedere se ci sono qualche, se c'è qualche capillare rotto, ma non mi sembra. Lei ha qualche punto nella vista in cui avete un po' appannato? No? Allora, secondo me sono a posto gli occhi. Adesso farò un'ultima cosa alla gola e poi un'ultima definitiva alla gola. Allora ho qui questa pacchetta e poi ho una torcia. Le chiedo quindi di aprire la bocca in modo che io possa vedere la gola. Abra un po' più grande. Ok. Mi sembra leggermente un po' più grande. Senti goffia, ma nulla di non normale, ecco. Lei ha problemi a deglutire? No? Allora non si preoccupi. Quindi come ultima cosa. Vedremo se il suo dito è a posto oppure no. Perciò io adesso le sussurrerò una parola a destra e a sinistra e lei me lo dovrà ripetere, ma lo dovrà fare ad occhi chiusi. E mi dovrà anche dire in quale orecchio l'ha sentita. Ok. Quindi. Casa. Sinistra. Ok. Ok. Tavolo. Destra. Carta. Ok. L'ultima. Bastone. Ok. Mi sembra perfettamente nella norma. Ok. Quindi la visita è finita. Adesso però le prescrivo due farmaci. Il primo per curare la sinusite. Ok. Allora lo deve prendere due volte al giorno. Ed è un farmaco molto simile a questo per una settimana. e invece per i primi tre giorni. Le prescrivo anche una crema lenitiva. Più che altro per il rossore e per far diminuire il colamento del muco. Questa la prende una volta. Appunto per tre giorni. Ok. Al massimo ci aggiorniamo tra due settimane. Ok. Vediamo se gli antibiotici hanno funzionato oppure no. Se invece lei si sente ancora così o peggio. Mi richiami. va bene. Va bene. Perciò arrivederci. Spero riesca a guarire. Va bene. Arrivederci.